mi chiamo Kelly Harmon attrice e voglio parlarvi di tic tac con la mia professione sempre a contatto con la gente l'alito fresco è molto importante certo e allora mette in bocca un tic tac così piccolo che posso gustarlo anche mentre sto recitando rinfrescando il mio alito per molto tempo e poi tic tac contiene solo due calorie e anche questo è importante per un'attrice e per chiunque no tic tac tanta freschezza in due calorie da nidra il delicato sapone al latte linea nidra al latte naturalmente neutra deve essere buona la simmental con le penne gialle come hai detto deve essere buona la simmental tinceman ti avevo avvertito carne simmental con un gusto così unico non sbagli mai pesantezza acidità il libro delle vacanze aviatur ti offre 500 programmi di viaggio ai prezzi che cerchi nei luoghi che sogni e stai subito meglio vacanze aviatur metti la freccia anche tu all night long all night long I've been looking for a man who can dream me like I won't run all night long all night long all night long all night long I've been looking for a man who can dream me like I won't run all night long all night long all night long all night long I need to love someone who will find someone to love me all night long Chir contro lo yogurt